ciao a tutti oggi prepareremo lo sformato di patate e spinaci il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa ingredienti sono patate tagliate a fette sbollentate spinaci lessati e strizzati parmigiano grattugiato noce moscata fontina tagliata a cubetti burro sale e pepe diamo il via la ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale gli spinaci il burro il pepe il sale e la noce moscata ed azioniamo i bimbi per tre minuti 100 gradi velocità 1 aggiungere il parmigiano la fontina e facciamo cuocere per due minuti 100 gradi velocità 1 gli spinaci sono cotti componiamo adesso lo sformato abbiamo imburrato una terrina da 22 centimetri adesso andremo a fare un primo strato di patate versiamo gli spinaci versiamo gli spinaci livellare bene spolverizziamo con un po' di parmigiano formiamo un altro strato di patate spolverizziamo con un po' di sale spolverizziamo con un po' di sale cuocere in forno per riscaldato statico a 200 gradi per 10-15 minuti lo sformato è cotto lasciamolo intiepidire prima di servire sformato di patate e spinaci grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti